Roma è stata scelta per ospitare gli World Sport Games del 2023. È una bellissima notizia che oggi abbiamo presentato ufficialmente in una conferenza stampa nella quale si è descritto il progetto che prevederà quindi attività sportive ma anche attività culturali. Un momento importante sarà una settimana di grandi eventi e di accoglienza che la nostra città riserverà a 10.000 arrivi. Quindi saranno atleti con le loro famiglie che staranno a Roma per tutti i giorni dell'evento quindi dalla cerimonia di apertura fino alla cerimonia di chiusura. Siamo stati premiati, il progetto presentato è stato giudicato eccellente quindi è un motivo di orgoglio di tutti noi anche perché vorrei sottolineare l'offerta che ha fatto Roma riguarda strutture, servizi che sono attualmente esistenti quindi non abbiamo previsto nulla di più di quello che già c'è quindi sarà un evento a costo zero per l'amministrazione ma che porterà tantissimo indotto quindi turismo, sport, benessere e l'immagine di Roma nel mondo che si solleva come sempre. Grazie 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 Grazie